La banca popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. La banca popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Sorge alle 7.44 e tramonta alle 16.31. La luna si leva alle 15.25 e tramonta alle 5.40. Con diploma dell'imperatore Federico d'Austria viene ufficialmente riconosciuta l'Università agli Studi di Treviso. Sorta circa un secolo prima, pare avesse sede accanto alla chiesa di San Nicolò e contribuì discretamente alla diffusione della cultura nella marca trevigiana. Fu chiusa qualche anno dopo il riconoscimento in seguito alle vicende politiche nelle quali venne a trovarsi coinvolta Treviso. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso, ma in pianura con varie nebbie persistenti a sud dell'asse Verona-Vicenza-Padova-Venezia, mentre il trove in dissolvimento almeno parziale nelle ore centrali del giorno. Precipitazioni assenti, temperature in pianura senza variazioni di rilievo, in montagna generalmente in aumento, specie in quota.